Ebbene oggi faremo una lipostruttura assistita della regione addominale e della regione toracica ovvero la classica ginecomastia. Lipostruttura assistita in quanto utilizzeremo i più alti presidi della tecnologia cioè gli ultrasuoni e la vibrosat che ci consente di aspirare con più velocità senza avere perdite ematiche e con risultati molto più soddisfacenti in quanto è possibile anche definire maggiormente la silhouette in quello che viene definita la lipostruttura 4D. Ci vediamo dopo.